curare le cose negative, questa è proprio l'analisi che anche Aristotele dall'antica Crescia applicava, quindi prendo l'altro microfono questo penso che avete sentito direttamente la Valentina, quindi ci sono ancora delle seglie libere quindi chi vuole si può sedere ma penso che tra un po' quando partirà la catarsi non sarà seduto più nessuno perché diventerà difficile stare fermi e quindi ci sarà da perdersi in questa catarsi vi leggo brevemente l'idea, che cosa è stato questo progetto, come nasce allora, la catarsi, dal greco catarsis, è purificazione, è una cerimonia di purificazione che si ritrova in diverse concezioni religiose e in rituali magici che di solito prescrivevano il sacrificio di un capo espiatorio in psicologia la catarsi fa riferimento a una strategia terapeutica il suo scopo è combattere le diverse emozioni negative che ossidano la vita la parola ossidare è abbastanza emblematica la catarsi in psicologia è la chiave di tutto il processo creativo la sua finalità è giungere al momento di liberazione delle tensioni conflittuali attraverso la catarsi allontaniamo dalla nostra mente la rabbia, la tristezza e le frustrazioni in questo modo lasciamo spazio a stati motivi più sani, leggeri e rilassati ed è proprio quello che fa la musica popolare con queste tersine insistenti che agiscono appunto su un sistema nervoso centrale e possono appunto essere curative per questa tipologia di problema il termine catarsi risale all'approccio psicoanalitico di Sigmund Freud è importante però segnalare che questa parola ha conosciuto il suo apice con Aristotele il grande filosofo greco che la utilizzò per definire la finalità della tragedia nel teatro ovvero del meccanismo attraverso cui possiamo purificarci in senso emotivo, mentale e spirituale la catarsi che Aristotele attribuiva alla musica era precisamente quella capacità di produrre una purificazione nell'ascoltatore una liberazione dell'anima dalle emozioni negative e pericolose nel suo scritto sull'anima Aristotele sostenne che la musica come le emozioni avesse origini dal movimento cosa c'è più movimento della musica popolare? movimento di ballo, movimento di suono? le ricerche dell'antropologo culturale Ernesto Di Martino rappresentano un accurato e sorprendente studio sul tarantismo tale nozione incorpora un sistema ideologico complesso che nella credenza popolare è legata a una fantomatica patologia dovuta al morso della cosiddetta taranta la ricosa tarantula tale è il ragno di grandi dimensioni il cui morso si riteneva causasse depressione, melanconia, cetatonia e delirio dolori addominali e muscolari questa bagnità grazie a tutti